L'azienda Marche Nord di Pesaro eccelle nelle classifiche e ottiene diversi riconoscimenti nazionali e internazionali per i suoi reparti. Vanno forti soprattutto la neurochirurgia, la pediatria e la gastroenterologia. A spiegarlo ai nostri microfoni è il dottore Edoardo Berselli, direttore sanitario della stessa azienda ospedaliera. Su Newsweek, dove è una delle fonti prestigiosi, quindi stiamo parlando di una classifica mondiale, ben quattro specialità sono state citate tra le prime nel mondo. Quindi oltre alla neurochirurgia abbiamo citato la pediatria, abbiamo la gastroenterologia e abbiamo l'ortopedia. Quindi sono quattro addirittura specialità. A livello nazionale c'è stata un'altra classifica molto importante che si chiama oncoguida. In realtà anche questa è molto prestigiosa perché va a valutare in tutta la struttura nazionale, in tutte le strutture, quelle che sono le strutture di eccellenza. L'eccellenza è data dal fatto di fare grande casistica e di farla con pochi rischi per i pazienti, quindi numeri e qualità delle prestazioni erogate. Tenete presente che questa certificazione nasce dalla lettura dei dati clinici, quindi di tutte le schede di missione ospedaliera. Non sono sondaggi, non sono opinioni, ma sono dati oggettivi recuperati dal Ministero della Salute. Quindi abbiamo ancora la gastroenterologia, la chirurgia, la urologia, abbiamo l'otorino-laringoiatria, la nostra breast unit che tra l'altro viene citata su due presidi perché in realtà oltre ad essere su Marche Nord fa ottenere il bollino verde anche all'ospedale di Urbino perché il nostro chirurgo, la nostra breast unit opera sull'ospedale di Urbino. Riconoscimenti che soddisfano i vertici dell'azienda ancora in prima linea con tutto il suo team di professionisti nella lotta al Covid. Se così non fosse non avremmo retto al periodo di massimo flusso. Il fatto di essere riusciti a gestire per mesi, ormai sono quasi due anni che teniamo fronte a queste richieste dei cittadini e soprattutto nel primo periodo, questo siamo riusciti a farlo perché è un'azienda che lavora con organizzazione tant'è vero che non abbiamo mai pensato di improvvisare le cose ma da subito abbiamo organizzato un'unità di crisi abbiamo messo attorno a un tavolo i professionisti, abbiamo costruito delle linee guida dove le linee guida non c'erano cercando di sperimentare i farmaci migliori, le strategie e l'organizzazione migliore di queste strutture. Grazie